Ieri, Domenica delle Palme, giornata d'inizio della Settimana Santa, Antenna del Mediterraneo grazie alla collaborazione con la Diocesi di Patti, ha trasmesso in diretta dalla Cattedrale San Bartolomeo di Patti la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Monsignor Guglielmo Giombanco. Come è noto, l'emergenza coronavirus ha modificato anche l'itere dei riti religiosi, propinuto dai periodi più importanti per il mondo cattolico. Da ieri, infatti, è iniziata una Settimana Santa inedita, senza la presenza fisica dei fedeli, che porterà ad una Pasqua a porte chiuse. L'unico modo per seguire le celebrazioni sarà quello delle trasmissioni tv in diretta, anche su Antenna del Mediterraneo. Dopo la Santa Messa di ieri, i fedeli potranno continuare a seguire, sempre in diretta dalla Cattedrale San Bartolomeo di Patti, le funzioni fino alla Passione e alla Resurrezione. Giovedì Santo, 9 aprile, alle ore 18, ci sarà la Messa in cena a Domini. Sempre alle ore 18, il giorno successivo, venerdì Santo, sarà trasmessa la Passione del Signore. Sabato Santo, dalle ore 20, ci sarà la Veglia Pasquale e infine il 12 aprile, domenica di Pasqua, la solenne Messa delle ore 10.30. La Settimana Santa sarà in diretta su Antenna del Mediterraneo, canale 14111 del Digitale Terrestre, visibile anche in streaming su amnotizie.it.